Prima di tutto saluto Donna Felina, una cristiana di Modola, che mi ha detto che i parcheggi sono picchi a Chiatone e che chi è che sta a Chiatone, che ha avuto in Chiatone, non è che la potrà spendere tutti i due, tre, quattro, cinque euro. Beh, Donna Felina aveva proprio ragione, tant'è bene che noi stiamo cercando di creare un picco di parcheggio vicino alla ferrovia, almeno due trecenti parcheggi, perché pur c'è il materiale di cristiana che è altra, la posso poter mettere la macchina senza fare. Donna Felina quindi aveva ragione. Beh, per quanto riguarda invece la poluzia è vero che la poluzia si può fare sempre meglio. Però io penso che tutto sommetto e tutto l'anno Chiatone viene pulozzato. Questo è un problema dell'imbaudo. I vecchi li vogliono vicini e i giovani li vogliono lontano. E l'usine c'è come affetto. Ha cercato di accontentare tutti. Allora non c'è accontente alle vecchie e non c'è accontente dalle vecchie. Poi c'è una domanda impertinente di vecchie da Napoli. Che dici che Chiatone stanno solo i vecchi. Eh figliami, eppure vecchie non cambiano. Ci facciamo stessi solo vecchie, un mondo speciale. Allora i vecchie rappresentano la saggezza. E tu quando vuoi una piccola saggezza? Viacchiatone. Quando vuoi una piccola guagnetta? Te ne vieno l'avanti. Comunque Chiatone è una bella realtà. Se puoi stare tranquillo. Non c'è tanta casina come sta l'old van. Certo, magari è più adatta alle famiglie piuttosto che alle guagno. Però Chiatone è sempre bello. Vi ricordo che a Chiatone Lucio Battista ha scritto una bella canzone. Acqua azzurra, acqua chiara. E che a Chiatone era frequentato da tante persone. Ma Chiatone è sempre bello. Certo, potrebbe essere giustato la piccola migliore. Se le gambe devolano la piccola e la chiesa. Però, bisogna dire per te, Chiatone è veramente bello. E quindi venite a Chiatone. Poi stai facendo pure una piccola cosa bella. Fra un anno, fra due anni, in mattina una piccola parcheggia di più, una piccola verde di più. E soprattutto, immagino che deve lasciare qualche campeggio. Adolivo agnuno e le cristiane potrebbero passare 15 di felicità e serenità. Grazie. 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 Grazie.